Ehi ragazzi, ben ritrovati nell'Andralinkramatune e bentornati su Yu-Gi-Oh! Non ho fatto i duelli invertiti della scorsa volta, quei tre duelli che avevo fatto, ma non gli importa, li farò poi comunque sia per conto mio. Ma oggi si affronta un duello di lacrime e vediamo già le personaggi che saranno Thea e Mai ad affrontarsi. Yu-Gi-Oh! ovviamente è abbattuto a causa della sconfitta subita contro Kaiba e ha perso tutte quante le stelline e quindi ora deve trovare un modo per racimolare le dieci che gli servono. Però Mai vuole ripagare Yu-Gi, quindi interviene e gli regala delle star chips che ha ottenuto in più. Ad ogni modo lei si arrabbia con Yu-Gi perché non accetta le stelline e gli fa Dai Codardo affrontami per loro e invece no, combatterà Thea. In realtà il deck di Thea non è per niente male, è un deck che gioca molto con le magie. Perciò penso che potrebbe venire fuori una bella sfida. Io ormai se avete visto gli altri video lo sapete inizio sempre per secondo perché mi è più congeniale. Mamma mia ragazzi, Cestus di Douglas, non vedevo questa carta da dieci anni tipo. Perfetto, abbiamo dei mostri fata ovviamente. Mostro tipo fata e mostro equipaggiato, ok. Potrei anche andare full attack e penso proprio che lo farò. Potrebbe avere lo specchio lei, quello che ti riflette l'attacco, ma non credo. Intanto equipaggiamo con Cestus di Douglas. Lo busto? Ma sì, guarda facciamo una cosa, lo busto all'inverosimile. Allora, ha una marea di punti ora l'attacco. Tipo lui è il dio delle fate, non quello di Nanatsu, però insomma è abbastanza forte direi. Lei è l'unico modo che ha per fermarmi è distruggermelo. Un Waboku? Un null'attacco? Il mostro equipaggiato guadagna 500 attacco. Ragazzi, io... Voglio proprio... Guarda! Lo faccio giusto per, giusto per. Potevo darla a lui, sì, però voglio fare questa strategia stupida. Ok, il draghetto delle herpie. Cioè, quello è il cucciolo di drago. Oh, attenzione. Aia, aia. Va bene, va bene. Dovrebbe attivarsi il replay qui. No, che continuo ad attaccare. Sono scemo. Ecco, io questa cosa nel gioco di carte normali non l'abbiamo mai fatta con i miei amici. E abbiamo fatto centinaia di duelli. Una cosa assurda. Però... Replay mai fatto. Non... Boh. Sarebbe da evocare. Provo a baitare il computer. Ah, ecco. Me lo gira. Perfetto. Va bene, va bene, va bene. Mi distruggo le sorelle che sono pericolose. Le sorelle possono davvero creare dei disagi allucinanti. Dico, ma provo a baitare il computer a mettere una carta coperta perché in genere il computer fa delle scelte. O attacca la carta coperta o non attacca per niente e gioca solo in difesa. Provo appunto a fare... A vedere se vuole attaccarmi. Questa cos'è? L'onesto? Oddio. Non mi interessa l'effetto. Ma... Mi interessa più che altro il fatto che possa ristruggergli questa. Bene. Ok, la ragazzetta arpia. E finiamo. Questa battaglia, ragazzi, può andare solo in una maniera ora, se lei non evoca nulla. Ecco. L'ha fatto. L'ha fatto. Ha paura di quella carta. Uniti resistiamo. È una carta molto particolare. Gli attacco ovviamente questa e gli faccio... Oh! Oh, yes, ragazzi. Eh, la finisco qui. Non so cosa posso avere qui. Ma se ha un'altra legge arpia, prendo un bel po' di danni da... Aia! Ah, le solelle? Ah. C'è una maniera in cui posso effettivamente... Mamma mia, ragazzi. Cioè, allora... A questo punto. Vai, vai, vai. Ragazzi, voglio proprio pomparlo all'imverosimile. Voglio proprio godere della disfatta di Mai in questa maniera. Oramai sono deciso, voglio fare in questa maniera con lui. Immaginatevi se questo era un gioco delle ombre. Sempre ovviamente riferito al contesto del... Del videogioco, ovvio. Insomma, una sconfitta piuttosto pesante, eh. Mi arrendo, te, non ho le carte per vincere. Ci mancherebbe altro. Ad ogni modo. Mai ha rato le star chips a Yugi. E a posto così. Possiamo entrare al castello per affrontare Kaiba. Oh, bello sto battle pack. World of the Giants. Oh. Campione contro creatore. Mi piace. Il creatore. Dov'è mio fratello? Che cosa? Nessun ciao, nemmeno un come stai. Pensavo che fossimo amici, ragazzo mio. Kaiba boy. Non dirmi che il rapimento di Mokuba e il mio controllo della tua azienda abbia creato dei problemi tra di noi. Non era niente di personale. Inoltre, non ho fatto del male al tuo fratellino. È perfettamente al sicuro. In realtà, puoi riaverlo se vuoi. Battimi a un duello ed io lo libererò come promesso. Perdi. E non solo la tua anima rimarrà schiavi tu, ma la tua farà la stessa fine. Dovrai sconfiggermi. Io ti schiaccerò. Sei pronto, Kaiba? Il destino del tuo fratello è in bilico. Dueliamo! Vai, col deck della storia. Tsukahagi! I mayashi avvelenati. Ma... Mayakashi avvelenato. Wow. Sono il creatore, allora! E ho vinto! Beh, secondo, ovviamente. Dovrai essere preoccupato... Dovrai essere preoccupato? Intanto gioco difesa Toon, che non è per nulla ottimale. E forza l'attacco Goblin, Toon. Non posso attaccare, nel turno in cui viene evocato. Cosa che invece nell'anime fanno deliberatamente. Posso attivarla anche adesso, tanto non è necessario. Ok. La cosa problematica è che se forza l'attacco Toon la uso, va in difesa. Porca miseria. Vabbè, lo faccio lo stesso, non importa. Non importa, non importa. Va bene così, va bene così. Giochiamocela, giochiamocela. Kaiser. Sì, lo attivo. Eh, guarda... Con quello che ho in mano, non posso fare che mi attacchi. No! Ok. Ahia! Ah, oh cavoli. Eh, Megamorphe questa, dai. Eh, Mondo Toon. Assolutamente, Mondo Toon. Perfetto, così l'attivo. A questo punto potrei attaccarlo direttamente, però evochiamo specialmente il Drago Toon Occhi Blu. Non può attaccare nel turno in cui viene evocata, quindi aspettiamo. Il problema, Kaiba, è solo uno. Che io posso attaccare direttamente. Volendo. Questa qui neanche può attaccare, vero? Mannaggia. Eh, no, non attacco direttamente perché se mi avoca il Drago Bianco è finita. Mi fa un culetto tanto. Quindi preferisco distruggergli i mostri per il momento. Lo attaccherò direttamente solo quando sarò sicuro di vincere. L'alligatore Toon, no. Perfetto, perfetto. Voglio provare una cosa. No. Distruggo il mostro. Buonissimo. No. Vai. Attacco anche con lui. E iniziamo a infliggere dei danni. Se mi attacca questo mostro è grave. Ok, pesca due carte, caro. Perfetto. Mettiamola in difesa. Si attiva l'effetto. Distruggiamogli questa carta. Battleface. Ci spreco un po' di punti, però almeno... Dovevo attaccare prima con gli altri. Oi. Oi, 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 oi. No, attacco diretto. Ho sbagliato a premere. Allora, mi sono sbagliato e ho fatto attacco diretto. Vediamo se però lui si autodistrugge il suo drago. No. Non lo fa. Ah, però ho vinto. Ah, ok, ho vinto tanto. Attacco diretto, sì. Perdo mille life point, ma almeno lo sconfiggo. A posto. Fatto. Anche questa... Pensavo di perderla a un certo punto, quando è avvocato il drago, ma... Molto facile, ragazzi. Prima di questi due duelli, molto semplice. Hai perso, Kaiba, e non solo hai perso un duello. Hai perso l'unica possibilità per salvare il tuo fratellino. Lo hai deluso? Ma non preoccuparti, caro amico. Ti risparmio all'agonia di essere in questo mondo senza di lui. Pegasus sollevò una carta vuota. E ci imprigionò la sua anima. Benvenuto nella tua nuova dimora, un luogo di solitudine e isolamento. Ah, i fratelli Kaiba, uno in ciascuna delle mie mani. Così vicini eppure così lontani. Già, duello d'identità. Si affrontano Yugi e Mai ancora una volta. Dovrebbero essere, se non sbaglio, i duelli che iniziano per il torneo, appunto. Yugi, Joy, Mai e Bandit Ken. Vi do il mio benvenuto in questa arena. I migliori duellanti di Duel Monsters combatteranno per determinare il campione del regno dei duellanti. Solo uno di voi uscirà vittorioso. Solo uno di voi potrà vincere il premio di 3 milioni di dollari. Naturalmente il vincitore avrà il diritto di spiudarmi nella finale. Al vincitore gli sarà concessa una richiesta, qualunque sia, quello che desidera veramente. Se la richiesta rientra nei miei poteri, il loro desiderio diventerà realtà. Il vincitore, inoltre, sarà dichiarato il campione indiscusso del regno dei duellanti. Il numero uno in tutto il mondo. Primo incontro, Yugi contro Mai. È un duello un po' d'onore per Yugi, perché appunto deve rifarsi del non aver affrontato Mai e averla fatta affrontare a Thea e aver preso, diciamo, un po' così a buffo le Star Chips. Ma non importa. Aia, terreno di caccia degli arpie. Ma che cosa sta combinando? Ma è scema? Solo per evocare i due mostri? Ma è matta? Cosa? Ma perché l'ha fatto? Intanto attivo la spada rivelatrice. Ed evoco il guardiano celtico in posizione di attacco. E finisco il mio turno, perché non posso attaccare assolutamente, ma posso evocare il teschio dopo. E se evoco il teschio... Ma, Zon, ragazza, ti distruggo? Aia, faccia di uccello! Oddio, sta magia è un po' una chiavica, alla fine. Evochiamo il teschio, dai! Dai! Allora, faccia di uccello prende tanti punti. Quanti sono i mostri uccello? O meglio, i mostri bestialata sul terreno. No, non voglio attivarlo l'effetto. Mi fanno attaccare. Purtroppo ora me lo continuerà a chiedere. Io non posso farlo. Mannaggia! Ah, però. Ah, però, ragazzi. Ah, però. Eh, rievochiamo il teschio con mostro resuscitato! Oh, signorina! Lei sta per ricevere una batosta con i fiocchi. Mi dispiace solo l'ora di premere ogni volta il tasto destro per... Dire di no, che non voglio che si attivi l'effetto. Sei nella main phase! La rifinisce la battle phase! No, non voglio attivarla! È una carta che non serve a niente! Specialmente in questo deck. Ci perdo solo. Ci perdo solo all'attivarla. Eh, vabbè, però. Non posso comunque attaccare. Cioè, posso attaccare ma non devo attaccare lei. L'attivo. Io devo attaccare... Ti prego, dimmi che posso... Posso attaccare tranquillo. Ok, perfetto. Se riesco a distruggerle tutte quante le carte arpia sul terreno, il suo draghetto diverrà un innocuo pulcino. Sì, però. Sì, però. Sì, però. Devo resistere per altri due turni. E evitare che lei evochi. Infanti mostri c'ha, però. Allora, provo a fare una cosa. Sì. Attivo questa carta. E scelgo l'elfo mistico. Così almeno me la levo ritorno, sta carta. In teoria... Prendendo il controllo di una ledi arpia... Potrei essere in grado di fare una cosa. Allora, attacco... Questa. E con questa attacco questa. Ah! Ci va in pari! Maledizione! Vabbè. Va bene, va bene, va bene, va bene. Va bene. Ok, ora finisce la spada. Finisce la spada e tanti cari saluti. Devo agire ora. No, questa mi sa che la vado a perdere. Perché ora può attaccare. No, ti attacca. Oh mio Dio! Raigeki! Boh, io a questo punto attaccherei. Lei non so quanti mostri possa ancora avere, eh. Le ne ho distrutti di tutti i tipi. Non so quanti ne posso ancora avere nel deck. Cioè, a 15 carte al cimitero sono... 13 mostri sono. Ah sì, il tifone posso attivarlo. Così li distruggo questa. I mostri per evocare glorioso soldato nero ce li ho. Devo solo pescare la carta. Ne guadagna mille punti. Ah! Aia, 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 aia. Aia, 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 aia. Niente, non lo posso più evocare. Anche lo pesco. Gaia, ci voglio due tributi, però ci vogliono. Attivo buco nero. Ragazzi, sta lotta è molto particolare, eh. Dai, pesca qualcosa. Su, su, su. Ah! Niente. Al limite, se mi attacca, non subisco danno. Oh, io, io, io. Mammut delle tombe. Io lo evoco. Male che va, me lo distrugge. Ok, non è una carta che può... A recarmi danno, a quanto pare. Ragazzi, se dovessi pescare il soldato... No, non ancora. Però se dovessi pescarlo, Curibo e Gaia... Gli vanno... Gli danno una mano. Ottimo. Solo mille punti mi separano dalla vittoria. Ormai, penso che l'esito sia scontato. Aiaiaiaia. Ah, lei? Perché lei? Ah! Ok. Ho capito. Ho capito, ho capito. No, non l'attivo. No, non l'attivo. Ragazzi, io non dico niente, ma lei si è appena distrutta con le sue mani. Ragazzi, si è appena distrutta con le sue mani. Mille life point precisi, precisi. Oggi, questi tre duelli... Questo è stato molto lungo e molto particolare. Però, ragazzi, tre duelli su tre vinti. Oggi è andata alla grande. Anche l'altra volta, vinti... Solo una volta ho perso, mi pare. Oggi, tre su tre, una streak perfetta. Aspetta, ma c'è qualcosa che voglio dirti. Grazie. Hai detto che un duellante può imparare di più da una sconfitta che da una vittoria. Avevi ragione. Ma tu oggi mi hai insegnato molto. Ho dovuto confrontarmi con le mie paure e debolezze. O non avrei mai potuto batterti. È bello sentirti dire questo. Ma mi sembra che ho ancora molto da imparare. Forse la lezione più importante è che una sconfitta non deve essere per sempre. Hai vinto questo duello, Yugi, ma ce ne saranno altri. Ci rincontreremo di nuovo nell'arena. Dovrai stare attento. Mamma mia. Ora, questi duelli sono quelli più belli. Ok? Gli ultimi tre. E con quelli finirà anche Duelist Kingdom. Allora, in ogni modo, per questo video è tutto ragazzi. Io vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo in descrizione come sempre il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye! E... Grazie a tutti.